A-S-M-L-A-G-E-M-E-L-E-T-E Ciao e bentornati in un mio nuovo video Mettetevi comodi e cercare di rilassarvi questo video sarà come una sorta di chiacchierata fra me perché vi volevo parlare di un argomento che io in realtà mi ci sono imbattuta sette anni fa ma è pazzesco il modo nel quale mi ci sono imbattuta e cosa ho scoperto sto parlando del Mandela Effect io non so quanti di voi sanno cos'è il Mandela Effect ma il premetto non sarà un video tecnico su questo effetto Mandela sarà proprio una chiacchierata come si potrebbe fare dopo cena fra amici quindi prendetela veramente come una sorta di chiacchierata senza essere un video tecnico allora il Mandela Effect prende proprio il nome della Nelson Mandela perché questo effetto Mandela è stato scoperto proprio riguardando la morte di Nelson Mandela allora cerco di spiegarvi un po' cos'è e come l'ho scoperto io allora Nelson Mandela appunto è morto nel 2013 ma la cosa assurda è questa io mi ricordo esattamente quel giorno perché ero al tavolino che mangiavo e senti la notizia che era morto nel son Mandela mi ricordo che mi fermai e riascoltai per bene la notizia perché mi ricordo che non è possibile ma Nelson Mandela è morto da tanti anni per la mia testa per i miei ricordi quindi mi alzai e andai subito sul computer a cercare a cercare notizie sulla morte di Nelson Mandela perché lì per lì di sì no ma sicuramente ho capito male sarà la ricorrenza della morte di Nelson Mandela non può essere morto oggi perché io mi ricordo benissimo che è morto quando io ero più piccola non mi ricordo addirittura di aver fatto una ricerca sulla morte di Nelson Mandela quindi prendo il computer e digito Nelson Mandela morte la cosa assurda è che mi esce proprio la notizia cioè il titolo Mandela Effect e dico ma cos'è? e rimango stupita nel vedere che proprio intorno alla notizia della morte di Nelson Mandela c'era stato uno studio di questo effetto Mandela in pratica tutto nasce da una scrittrice che si chiama Fiona Brown lei in pratica è nello stesso modo in cui l'ho scoperto io che ha appunto fatto questo effetto Mandela lei durante un convegno apprese che Nelson Mandela era ancora vivo e in quel momento disse no non è possibile io mi ricordo mi ricordo esattamente i funerali in Mondovisione i titoletti giornali la vedova che piangeva davanti ai microfoni ragazzi la cosa pazzesca pazzesca è che mentre io leggevo leggevo queste notizie erano esattamente gli stessi ricordi gli stessi tempi ricordi che avevo io cioè io tuttora mi ricordo esattamente esattamente i funerali di Nelson Mandela mi ricordo i titoli dei giornali ma il fatto più sconvolgente è che io ho addirittura una ricerchina fatta alle medie sulla morte di Nelson Mandela e il mio professore di musica che si chiamava Jackery per chi era a scuola con me alle medie se lo ricorderà il Jackery Jackery addirittura compose una canzone sull'apartheid proprio per onorare la memoria di Nelson Mandela quindi io più leggevo questa cosa più rimanevo sconvolta sconvolta perché in tantissimi nel mondo hanno abbiamo perché anche io questo ricordo così nidido ma così nidido della morte di Nelson Mandela cioè io non riesco a non avere questo ricordo è come se io vi dicessi che non sono cadute magari le torri gemelle e tutti abbiamo in memoria invece la verità ecco a partire da da questo evento che tantissimi si ricordano accaduto negli anni 80 informandosi studiando si sono accorti che ci sono tantissime 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 eh situazioni nelle quali si può riscontrare questo Mandela e è curiosissimo come andando a informarmi andando a cercare mi sono accorta che veramente anch'io come in tanti abbiamo dei ricordi che in realtà non sono mai successi né né avvenuti ma questo Mandela Effect questo Mandela Effect non è limitato soltanto alla storia ma c'è nell'arte c'è nella musica c'è nel dei cartoni animati in tantissime cose vi faccio degli altri esempi ehm per dire no la canzone we are the champion the queen in tantissimi tantissimi ci ricordiamo che la parte finale fa we are the champion home on world invece in realtà non finisce in quel modo le teorie per questi falsi ricordi così nididi sono le più disparate le più fantascientifiche le più fantascientifiche sono quelle di universi paralleli che per qualche motivo hanno avuto un salto dimensionale magari si sessero gli universi paralleli vabbè però veramente io vorrei sapere da voi ragione i commentini se conoscevate il mantella e se anche voi avete questi falsi ricordi un altro esempio che vi voglio fare è quello dell'omino del monopoli quanti di voi si ricordano quell'omino del monopoli col cilindro secondo voi secondo i vostri ricordi hai il monocolo o non hai il monocolo pensateci in tanti io per esempio me lo ricordo col monocolo e invece in realtà non ce l'ha mai avuto un altro un altro un altro caso di Mandela Effekt è la scritta KitKat della barretta di cioccolato della barretta di cioccolato ecco in tantissimi ce la ricordiamo mai compresa con una stanchettina però la parola Kit e la parola Gat invece non ce l'ha un altro esempio nell'arte è l'uomo di Vitruvio l'uomo vitruviano di Leonardo quante braccia quante braccia quante braccia vi ricordate che ha l'uomo vitruviano pensateci sapete quel lumino dentro le cerche sei o quattro io ero convinta ne avesse sei e invece guardando le immagini ne a quattro è possibile che gruppi enormi di persone abbiano lo stesso ricordo così nitido così nitido internet è pieno pienissimo di tantissimi video informativi anche con le immagini il mio è appunto soltanto una chiacchierata per informarvi di questa cosa io ultimamente mi è tornato alla mente proprio perché l'altro giorno mi sono ritrovata mi sono imbattuta in un altro Mandela effect quando ho letto cioè parlavano di Topolino e appunto dicevano ma chi di voi si ricorda il primo cortometraggio di Topolino vi ricordate quel quel cortometraggio dove Topolino guida il timone di quel battello a vapore ecco secondo voi in quel cortometraggio bianco e nero Topolino indossava o no le pretelle pensateci secondo me le indossava e secondo tanti le indossava invece invece Topolino in quel cortometraggio non le ha mai avute eppure in tantissimi giuderemo di averle viste ma è pieno 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 di Mandela effect vi vi invito a andare a vedere se ci sono altri esempi nei quali vi riconoscete e spero di avervi rilassato un po' con questa chiacchierata e siccome iniziano i rumori in sottofondo e non riesco mai a trovare il momento giusto il momento giusto e che non sia un Mandela effect e non cambia e che rimanga veramente un giorno speciale ciao fatemi sapere nei commentini vediamo che mi ti sai s s s s s s s Grazie.